Dottore, stanno crescendo ancora i numeri, visto ancora qui Delia Nuova e Zona Rossa? Allora, da qualche giorno io vedo che la situazione è abbastanza critica, un decrescendo, non un aumento della contagiosità, perché ho rivisto un po' i calcoli, mi sembra che siamo sui 200 e non sui 260. Certamente si sta prendendo coscienza della patologia, sono stati interessati diversi nuclei familiari, diversi focolai ci sono stati in determinate zone del Paese, ma questa si è manifestata soprattutto per la negligenza e l'irresponsabilità di molti giovani che hanno determinato questo aumento. con le diverse aggregazioni che ci sono stati, oppure nel non mantenere le linee guida che ci venivano dati dalla televisione. Siamo rimasti l'anno scorso che guardavamo quello che succedeva al nord, tutti quei morti che ci sono stati e che non sono stati di esempio per noi. Invece quest'anno, mentre ci toccava marginalmente, con piccoli contagi, siamo arrivati a circa 27-28 casi, adesso invece è esploso subito dopo Pasqua con assemblamenti, riunioni e quindi si è via via aumentato questo numero di pazienti positivi. E' la prima volta che ci sono stati anche dei ricoveri, attualmente ne abbiamo cinque ricoverati, di cui una giovane signora che è in rianimazione e sta lottando per la vita. Quindi io invito tutti ad attenersi alle regole, evitare che ci siano ulteriori aumenti. Noi a giorni alterni stiamo effettuando dei tamponi in traipin con l'aiuto dell'USCA, con i miei volontari della Croce Rossa che si stanno attivando per dare aiuto alla nostra popolazione. Ecco padre, a questa comunità ci sono casi di coronavirus, di zona rossa, ecco i suoi fedeli, i suoi cittadini, i fedeli come stanno vivendo in questo momento? Sono chiusi in casa, non c'è nessuno in giro, chi può venire a messa viene, lì le distanze sono state sempre mantenute e continuiamo a mantenerle. Si sta pregando anche tramite streaming in modo da stare vicino alla gente. La gente è un po' preoccupata, però credo che sia abbastanza responsabile, almeno ora, nel senso che i contagi sono nelle famiglie ormai. Sono preoccupati un po' così, ma comunque si risolve, si risolve. Quindi siamo fiduciosi che si risolve? Si, si, si.